sei dynamite grazie non lo uso mai ok ok dai possiamo farcela ciao a tutti ragazzi sono celofi e quest'oggi siamo qui per questo nuovo video di brawl stars finalmente cioè come sempre allora quest'oggi come avrete letto dal titolo abbiamo ben 28 casse fra epiche e normali beh quindi non lo so cominciamo ma prima di cominciare voglio farvi vedere che ho quasi portato frank a livello 9 quindi allora mi mancano tipo 100 soldi no appena li ho trovati lo portiamo su di livello quindi vabbè cominciamo con quelle normali via ok niente di che e sono cento 1100 soldi ok 1100 e dai però così siamo a 30 anni deve arrivare almeno 1200 su su 1170 1200 perfetto no mi serve a 1250 e adesso c'è qualcosa di gratuito qui vediamo wow sei dynamite grazie non lo uso mai ok ok dai possiamo farcela sì a caso ma è fricato che io volevo soltanto dei soldi un brawler epico che bibi che mi piaceva tantissimo da tantissimo che lo stavo cercando ottimo comunque sì 50 soldi ancora non ho trovati eh ho tantissime cose bene finalmente possiamo fare la serie di livello guardate qua quanto cavolo diventa potente boom ora possiamo anche cercare l'abilità stellare tanto che sottofondo sentite le campane vabbè ok dai quindi brawler sì sì dove hai bibi intanto devo vedere ecco qua mamma mia poi la proviamo ovviamente allora vediamo un pochino adesso possiamo anche aprire quelle epiche ma sì magari ci troviamo subito l'abilità qui dentro è per questo che lo lasciate dopo vediamo un po' bibi si può migliorare ok perfetto niente niente cose dai l'abilità l'abilità stellare su no niente uffa vabbè apriamo queste sono ancora 15 quindi potrebbe capitarmi benissimo eh dato miglioriamo vivi dai vai livello 2 ok ci sono si sono niente e niente subia qualcosa davvi sa cavolo di vita stellare si può trovare nel negozio non lo so sapete eh qua non c'è niente al momento magari il futuro si troverà non lo so non me ne intendo è il primo brawler che porto a livello 9 allora intanto continuiamo ok niente tantissimi soldi eh ma niente di più mi sono arrivato ancora 6 comunque abbiamo trovato bibi che è tantissima roba eh attenzione quindi posso dirvi davvero soddisfatto anche dei bigliettini va bene vabbè perfetto dai abbiamo trovato bibi che è tantissima roba però peccato che non ho trovato l'abilità di frank vabbè almeno abbiamo portato a livello 9 quindi possiamo sbloccarla vabbè lo troverò fuori dal video probabilmente chi lo sa comunque ora proviamo bibi eccoci qui in un'arena desolata con il signor dig il signor dig e e basta io che pendo mazzate le cose bellissimo davvero spettacolare questo brawler qui ovviamente l'ho appena trovato quindi l'ho a livello 2 che comunque è brutto cattivo tizio lì oh cavolo qua cosa succede comunque meglio che niente livello 2 dai qui che cosa c'è allora lì c'è pieno di gente mamma mia swish swish via fuggi fuggi oh cavolo la situazione è difficile ci sparano continua a cadere meteore addosso andiamo addosso questo qui è molto ferito è in difficoltà mamma mia fuggi dig scappiamo scappiamo che ci sparano soldi ci sparano soldi in realtà non sembra una cosa così negativa ma in realtà i soldi fanno molto male se ti rilanciano eh ok all'attacco vai 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 eh dig dig no ti frego le cose dig aiuto oh no da tutti i lati via 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 ritirata siccome abbiamo già sconfitto un team siamo in quattro squadre cioè possiamo fare dig ok adesso ritorna eccolo qui sfondiamoli sfondiamoli oh no il meteorite dig scappa grande stava per bloccarlo ma lui con un colpo fulminio l'ha disintegrato sparagli cosa fai lì con l'arma in mano sparagli 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 grande ok ok eccomi ci penso io siamo rimasti in tre squadre tutti qua come si fa con la v mi dimentico ogni volta ho ucciso qualcuno no mi sa che non ho ucciso me basta vabbè dig perché vai nel fumo dig esci da lì cosa ci fai lì nel fumo ci sono pure le meteori è un casino quelli si menono ok noi non abbiamo più punti energia però siamo oh cavolo siamo rimasti noi questi due qui oi oi aiuto aiuto boom no eh si quelli ci avevano 15 punti energia cavolo eccoci in azione ragazzi dig dove va e questo te lo sai dimenticare ah giusto lui deve sparare a distanza che c'ha Piper me ne ho scordato andiamo subito al 100 ma si dai con cattiveria tanto la potenza è fortissima in me hai capito la forza ecco la forza è potente in me esce bam alle spalle fuga 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 che mi ammazzano cosa succede di qua dig che disastro è combinato ho visto della gente lì ci sparano sempre soldi ok piglio questa dai bene molto bene no c'è tic quel maledetto io lo detesto quel brawler è fortissimo via 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 lancia tante di quelle bombe è un disastro allora c'è pieno di gente siamo ancora in 5 squadre vieni 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 qui vieni qui aiuto aiuto io io inseguo easy pro master vieni qui vai nel fumo vattene nel fumo nella nuvola della morte e mi ha ammazzato lui scappa dig dig sei un po' accerchiato ok grande dig ce la fa però eccomi via 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 guarda lì delle robe spiegati questo si si oh no via 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 scappa 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 vieni qui oh no via ti frego di nuovo le cose dig ok dai c'è la possiamo fare siamo in 3 squadre e ci stanno cadendo i meteoriti addosso mi detestano i meteoriti questo lo sappiamo già tiè nel fumo via 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 ma qui siano gli orsi le torrette to dig cosa ci fai là in mezzo al disastro dig è morto to si vabbè dai siamo arrivati in secondi di nuovo un buon risultato si è unito a noi anche il mitico moha però direi di prendere frank a questo punto giusto per provare il livello 9 che sarà stra devastante il wifi mi sta abbandonando per qualche motivo vabbè eh mamma mia quanta gente però sono devastantissimo guarda qui la potenza la potenza eh la potenza di frank niente nessuno potente come frank aiuto sono troppi però ma siamo fortissimi con questi brawler qui ok questo qui posso anche evitare di utilizzarlo adesso ok eccolo mamma mia ok non ho colpito nessuno no no ok che sono devastante ma conto 3 brawler da solo non ce la faccio ma ce la stavo facendo in realtà un paio ne ho uccisi eh trascendo il fatto che nella squadra avversaria c'è dio quindi ecco ok ma no mi hai bloccato la super maledetto brutto maledetto sta arrivando eh quello lì oh cavolo attenzione quelle forte oh invisibile eh eh non se l'aspettava guarda che faccia proprio non se l'aspettava fuggiamo ragazzi scappate dig scappa scappa dig e moa pure te vabbè moa tu ce n'hai una se proprio vuoi morire puoi farlo però vedi te eh mamma mia che potenza c'è una testa saltellante troppo bella la testa saltellante mamma mia Frank è troppo potente 8000 di vita e contate che ancora non ho trovato l'abilità eh quando ho avvalto l'altra sarà inarrestabile per concludere di fare una partitina a footbrow sempre con Frank ovviamente che è devastantissimo devastazione morte via 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 la piglio io che ho tantissima vita eh abbiamo vinto abbiamo già vinto non c'è niente da dire abbiamo stravinto ma guarda qui dai ancora un punticino e portiamo a casa la partita ovviamente con Frank swam tutti morti no ok è morto soltanto uno cavolo questo mi mea aiuto mori ok e si è in faccia ho stordito Voldemort fantastico ma che nomi originali hanno i tizi di oggi vai dig c'è loading Voldemort c'era dio vabbè fantastico punto dopo ragazzi proprio adesso che è arrivato a darci io devo concludere il video quindi come sempre vi ricordo di passare dal club che però è pieno quindi se volete sempre giocare con non con me ma con un mio amico potete entrare in Brawl Paper A2 che è l'accademia ufficiale vedete sono solo in tre quindi io direi che per oggi è tutto noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti iscriviti al nostro canale